Musica Amici carissimi baciamo le mani a tutti e che le balle siano con voi questa sera naturalmente sono in compagnia del nostro alfociccio che il nostro ciccio c'ha un dono dice sempre numeri spara numeri a più non posso ora questa sera io ci ho chiesto viene nella mia trasmissione di Astrobet e ci diamo qualche numero a qualche telespettatore che magari se lo vuole giocare può essere magari che vince sei d'accordo tu al suo ciccio? sono d'accordo e allora ora facciamo una cosa io intanto mi consulto con le palle sia la destra sia la sinistra vediamo quello che mi dicono se loro mi dicono facci dire i numeri al ciccio io ti dico ciccio comincia a dire i numeri tu ti avvicini al microfono e dice quattro numeri così quelle che ci stanno guardando quattro vai stanno più che poi cinque spassare dice queste quattro numeri quelle che ci stanno vedendo se le vanno a giocare e vediamo se avranno la fortuna di prendere va bene va bene ok le palle mi hanno detto che hanno bisogno dei numeri vai ora diciamo le palle si sollevano un poco diciamo spero la fortuna di vincere e alla volta mi sogno certi numeri per esempio come 22 33 34 e 35 attenzione aprivi le orecchie 22 33 34 e 35 quelle che lo stanno ascoltando se le devono andare a giocare perché può essere che il nostro al ciccio dice delle buone cose e vi farà prendere la quaterna va bene certo per tutte le ruote devono giocarlo oppure per una ruota sola per tutte le ruote manco per due ruote perché i palle sono due magari per due ruote anche per due ruote e quale ruote scegliamo c'è l'ambo e c'è la quaterna queste due qua no dico la ruota Palermo Cagliari Roma c'è Palermo e Cagliari allora giocateli a Palermo e a Cagliari abbiamo detto 22 33 34 e 35 se avete riscontri chiamate a strobetta e ce lo fate sapere così ci facciamo un regalino anche il nostro ciccio associccio 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 va bene ok allora in bocca al lupo a tutti e naturalmente come al solito che le palle siano con voi ciao da strobetto e associccio baciamo le mani ciao 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 oh yeah e associccio ciao 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 ciao